Dopo oltre cinque anni dalla stesura della prima graduatoria deliberata nell'aprile del 2013, poi arenatasi a seguito dei molteplici contenziosi avviati dai comuni esclusi, finalmente il comune di Naso potrà mandare in gara l'appalto per i lavori di realizzazione del progetto di riqualificazione e completamento del campo di calcio di Contra da Grazia. Nella provincia di Messina erano stati solo tre i comuni ad aggiudicarsi il finanziamento per l'impiantistica sportiva, oltre al comune di Naso nella graduatoria definitiva vi erano Sant'Agata Militello e Santa Teresa Riva. Il progetto del comune di Naso è stato ammesso integralmente a finanziamento classificandosi al 27esimo posto e ottenendo 1.135.000 euro per la realizzazione di un centro sportivo di eccellenza attraverso il rifacimento del terreno di gioco con un manto in erba sintetica, la ristrutturazione degli spogliatoi, la realizzazione di un impianto di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda oltre alla realizzazione di un piccolo impianto di depurazione. È arrivato il tanto atteso decreto di finanziamento che ci consentirà per l'appunto la prossima settimana di mandare in gara l'appalto dei relativi lavori, consentendoci per l'appunto di realizzare non soltanto l'inerbamento sintetico del manto di gioco, ma anche la ristrutturazione integrale degli spogliatoi e delle tribune. Un finanziamento di 1.200.000 euro che ovviamente consentiranno di dotare il comune di Naso di un'importantissima struttura sportiva a servizio dei più giovani e non solo. Grazie a tutti.